La storica libreria Colacchi torna in centro storico, non nei vecchi locali dello splendido Palazzo Picalfieri, ma a pochi passi dalla piazza. Il logo però, l'insegna, è la stessa. Tre piani di libri e scaffali che pian piano i proprietari stanno rimettendo a posto e un via vai costante da quando la libreria, punto di riferimento autentico per gli aquilani, ha riaperto i battenti. Una storia lunga, 81 anni, che passa il testimone da generazione a generazione, arrivando sino ai figli di Sandro e Roberto Rotili, che ora gestiscono la libreria. Uno spazio che sarà a disposizione della città intera, dei suoi eventi culturali, presentazioni o mostre. Io sono felicissimo per noi e per la città, perché noi siamo aquilani doc e il nostro pensiero in questi dieci anni è stato sempre quello di ritornare nel centro storico. E oggi abbiamo raggiunto il nostro scopo e sicuramente darà una spinta a tutta la città per una bella ripresa dopo questi anni abbastanza bui. La vita nostra è stata stravolta, però dobbiamo, come ripeto, piano piano incominciare come se fosse il primo giorno.